andiamo in agoli andiamo e 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 tanto la gente così infana che viene a cercarmi e 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 dove stanno? e 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 io ho visto quell'altro che mi spettava da dentro non l'ho visto scuro ce ne stanno altri ho sentito uno che passa non so sicuro stanno qua guarda e 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 bello questo mi ricorda qualcosa di buono dai dai sono la trappola è bravo e 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 cosa aspetta la registrazione questo questo fatto bella a tutti i ragazzi ben trovati sul mio canale oggi ragazzi duo insieme a zeiland e e e e e niente dove droppiamo bro bu dimmi te vuoi ma dimmi te cosa andiamo alle fabbriche vediamo andiamo se avevo la trappola però non avevo inculatela eh andiamo ma ho fatto 2 a 1 e 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 eccolo no la rete era headshot questo spara lì spara lì un po' spara lì un po' vado sopra lì e 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 easy eh fra volevi lo scar qua che cazzo però fra eh spili tutto colpi pompa ho quattro pusciano e vai ma guarda sto lancerazzi l'ho aiutato eh ma quel lancerazzi super forte stupido che efficiente che ritardato vero senza quello la non avrei non mi avrebbe ucciso eh bravo l'ho super ritato anche quanto aveva? eh non lo so ah si è suicidato infatti mi servono un po' di cose le ombre ho sparato no vabbè prendi cosa? vabbè va ti lascio questo qua ahiii no niente niente pallotto le medie più più medie di pallotto però anche pallotto non so non so ragazzi perché a volte non non costruisco cioè non lo so sono troppo sicuro non lo so wow terza partita di fila che lo so bellissimo gara eh il gara che cazzo dico il tipo il sniper si cioè o lo luto luto qualcuno o lo trovo in è partito no trappolo si ma cazzo c'è la gente c'è la gente alla trina cazzo 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 Targhetto rai drop o no? Ah già pensavo che Non arrivasse il colpo Ah mai Cosa? No ho sparato io all'air drop Poi sappiamo se c'è gente In quella zona Un'ombra mani Un'ombra La delle Come cazzo si chiama Boh ho capito La dove si prendono le ombre Non mi viene il nome Cosa mi dai se becco al volo Con lo sniper e l'ombra Quanto mi dai? Un euro Escapata Escapata Ah ho visto Ah prendi bene Anderci la c'è Buono Beh di karma positivo ragazzi Lascia lo sviluppo al compagno E lascia lo sviluppo al compagno Easy Oh qua c'è loot eh Fresco What Ah ci stanno altri qua Altro cilino Voglio prendere il brampino Per una volta Ombra 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 Guarda davanti a me E' in queste Pugli qua Nelle frasche Guarda Eccola E' 32 Sta dietro E' un nabu E' un nabu E' un nabu A tu si E' un nabu Cosa? Cosa? Eeeh Va Lasci il rampino Eeeh Non so Cosa porri Ok Allora Mamma Mi va sfiorato Guarda davanti No più bassi Più bassi Che cazzo era Vai spara Spara Lasci lo piccara Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ragazzi Che butta che io ho dato Comunque c'era gente dietro anche Eccolo Anche questo Non me ne andavo Lasci lo piccara Lasci lo sparare Lasci lo sparare Oh Non ho messo a terra Non ho messo a terra Non ho messo a terra Nemo Mamma mia no dai ma che skill avevo fatto ho messo una terra fantasticamente rega non ci credo ma ho ucciso sto nabu full con 3 kill di merda dai raga avevo giocato troppo bene sta partita ve lo giuro l'avevo messo a terra lo scheletro che piccava qua sopra la fattoria in un modo si 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 ma è one shot è quello che stava sul canale però metterà anche un'altra partita fammi vedere un attimo user ok su video video eccolo qua 17 questo credo come lo vedo un attimo no voglio vedere le cicchina di spettura tutto guardando era troppo bella davvero aspetta un attimo non parlare un attimo sono all'ande c'è sto volendo la la il video dove sono all'ande no voglio davvero troppo troppo bella fammi vedere sto guardando eh siamo dove abbiamo incontrato quello dove vi lanciato quel razzo vediamo qua che cecchinata che gli ho dato vediamo mamma mia no voglio vedere pure l'altro l'altro era ancora più bello l'altro come sta terra vediamo mamma mia fantastico voglio vedere anche come sono morto così guardo un attimo è stato un po' un coglione potevo farlo è quello che mi piccava ho fatto pure l'editing super bello peccato eh fantastica 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 vai vai fantastica bellissima davvero bellissima davvero bella ok a non bare bella a a Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti